Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Fare attenzione per vento forte segnalato sulla A12 e sulla Fipili, sulla A1, in direzione Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Valdichiana e Monte San Savino, per lavori fino al 28 febbraio e chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipili fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!